è uno dei più eclettici degli ultimi anni sta cambiando il panorama musicale congolese e africano e da lì da dove è partito è sbarcato in Europa e nel mondo intero e con grande onore che possiamo chiamare sul palco FALI! 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 FADE! rifom aquí! F Jedi! F 뜻i! No Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.